È tempo di emozioni! Il sussidiario dei linguaggi di Giunti del Borgo. Un percorso facilmente fruibile che garantisce a tutti gli alunni una corretta acquisizione delle competenze linguistiche. I volumi alunno sono 5 in classe quarta e 2 per la classe quinta. Il volume biennale Strumenti per iniziare, riflettere, approfondire è diviso in sezioni. Il bello della lettura dedicato all'acquisizione delle competenze. Letture per crescere su temi sociali e ambientali. Il progetto di approfondimento d'autore. I progetti d'autore sono basati sul piccolo principe per la classe quarta e su il ritorno di Ulisse per la quinta, tratte dai volumi Carte in tavola di Fata Track. Le carte in tavola sono previste per la classe in caso di adozione del testo. Le schede di verifica sui generi testuali. Nei volumi di lingua e linguaggi, le tipologie e i generi testuali sono introdotti da una mappa che sintetizza i contenuti a cui seguono le letture, in cui ogni brano è corredato da una efficace attività di analisi. L'unità si chiude sempre con un laboratorio delle competenze, che propone un ricco lavoro di verifica e con le mappe da completare che aiutano a memorizzare. Nei due volumi di riflessione linguistica si trattano in ordine ortografia, comunicazione, lessico, morfologia, sintassi. Nel volume ogni regola viene introdotta da una vignetta che ne facilita la comprensione e viene completata da numerose pagine di esercizi, matte e percorsi di verifica per fissare i concetti. Il laboratorio di scrittura propone strategie per la produzione scritta, mentre il volume biennale Laboratorio d'arte, stagioni, feste propone percorsi didattici interdisciplinari che accompagnano gli alunni alla scoperta del linguaggio dell'arte. Se sei interessato a È tempo di emozioni, contatta il tuo agente Giunti Scuola.